Ma il nuovo decreto del governo Monti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, contiene soprattutto provvedimenti legati alla sanità, novità per i medici di famiglia e anche per l'organizzazione degli ospedali. Non ve lo chiederete più, non ce ne sarà bisogno. Che orari fa oggi il mio medico? È tornato dalle ferie. Domande che potrebbero diventare superflue. Il governo ha deciso di rivoluzionare il mondo dei medici di famiglia. Ambulatori aperti 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. E' un gruppo di 20 professionisti che ruoterà e farà anche esami. Ma loro come l'hanno presa? Tra i medici lombardi c'è chi dice è una riforma sbagliata e inutile. Applaudono all'iniziativa le associazioni dei consumatori, ma prima, dicono, vanno informatizzate tutte le cartelle sanitarie dei pazienti. Assolutamente positiva. Il cittadino si attende che questa rivoluzione copernicana, oserei dire, sia a vantaggio del suo servizio sanitario. La rivoluzione vuole ridurre pressione e costi su ospedali e pronti soccorsi. Un'idea buona, secondo i sindacati, ma migliorabile.